Cosa è un angioma venoso? Un angioma venoso del cervello è un gruppo di vene ingarbugliate e malformate. Queste malformazioni si verificano spesso nelle vene drenanti nella sostanza bianca profonda del cervello. Le vene tipicamente mancano di cellule muscolari lisce e tendono ad allargarsi o a dilatarsi mentre drenano il sangue dalle parti del cervello. Le malformazioni venose possono avere un aspetto bluastro, mentre altre possono essere rosse bordo o non avere alcun colore in alcuni casi. Nella maggior parte dei casi, un angioma venoso non causa sintomi. Questi angiomi vengono in genere scoperti quando un paziente viene sottoposto a una scansione di immagini mediche del cervello come una risonanza magnetica, risonanza magnetica, o tomografia compoterizzata, TC, per un altro motivo medico. Un angioma venoso raramente sanguina raramente richiede un trattamento. La rimozione chirurgica di un angioma venoso include rischi di complicanze come un ictus che di solito non garantisce questo tipo di trattamento. Malformazioni venose possono verificarsi in altre parti del corpo come la pelle, le ossa o i muscoli così come gli organi del corpo come il fegato, la milza o il colon. La maggior parte delle malformazioni venose sono presenti alla nascita, ma potrebbero non essere visibili fino a più tardi. Alcune malformazioni venose possono sanguinare improvvisamente e queste formazioni possono ingrandirsi a causa di una lesione. Le donne in gravidanza possono avere un ingrossamento di una malformazione venosa e le donne che usano la pillola anticoncezionale possono anche notare una crescita di queste lesioni. Una malformazione venosa che si verifica in un'area critica come gli occhi, la faccia o il collo può trarre beneficio dal trattamento. In alcune situazioni, le lesioni da malformazione venosa più piccole possono essere rimosse con un laser. Alcuni medici possono eseguire la rimozione chirurgica di alcune o tutte le lesioni. La scleroterapia è una procedura medica in cui un medico tipicamente inietta una soluzione chimica in una lesione per ridurla. I pazienti possono sviluppare diversi tipi distinti di malformazioni venose oltre a un angioma venoso. Una malformazione glomovena è una lesione cutanea che tipicamente include cellule glomiche, cellule muscolari lisce che provocano la formazione di queste lesioni. Queste formazioni sono solitamente dolorose e di colore bluastro-porpora e possono essere viste quasi ovunque sul corpo. Le malformazioni glomovene sono spesso ereditate e tendono a funzionare in famiglie. La sindrome del nevo del bleb di gomma blu è un tipo di malformazione venosa che tipicamente cresce sulla pelle degli arti o del tronco. Queste lesioni tendono ad essere di colore blu e di solito si sviluppano come formazioni multiple. Alcune lesioni del nevo di gomma blu possono crescere nello stomaco o nel tratto intestinale, dove possono causare dolore addominale o sanguinamento in alcuni casi. I medici di solito trattano queste lesioni con il trattamento endoscopico e la rimozione chirurgica.